Assemblea operativa nei giorni scorsi a Fornaci per il Movimento La Libellula, che aveva in particolare due punti all'ordine del giorno. L'organizzazione del presidio, che il prossimo 29 gennaio accompagnerà a Firenze la consegna delle firme alla Giunta e al Consiglio regionale, e l'annuncio della Costituzione del Comitato Insieme per la Libellula, che dà una forma giuridica al Movimento. A Firenze, martedì 29, c'è la volontà di portare due pullman di esponenti della protesta in accompagnamento alle firme per chiedere il no al progetto di KME, firme che in queste settimane sono state raccolte a migliaia. Le firme al momento sono già più di 8.000, devo sempre raccogliere gli ultimi moduli, ma sono sicuramente un numero significativo e hanno una forte componente territoriale, questo va detto perché per la stragrande maggioranza provengono proprio dalla Mediavalle e dalla Garfagnana. La nascita del Comitato Insieme per la Libellula dà, come detto, forma giuridica al Movimento, con un principale obiettivo. Sarà deputato alla raccolta dei fondi, chiaramente come è stato detto sono partiti 60 giorni per le osservazioni, quindi ora abbiamo bisogno dei fondi per portare avanti la nostra battaglia, quindi per affidare a dei tecnici, a degli esperti ambientali, chimici, medici che già abbiamo contattato, le osservazioni al progetto che pensiamo che la Regione debba prendere in considerazione. Con l'istituzione del Comitato è stato dunque aperto un conto corrente, con l'esperienza che gli aiuti siano numerosi. Noi continuiamo la nostra battaglia, come abbiamo detto, chiaramente c'è bisogno appunto della partecipazione attiva della popolazione, che in questo caso deve essere anche economica, come verrà chiesto stasera, perché insomma ci vogliono dei fondi abbastanza significativi per portare avanti le osservazioni.